8.000 di ante! Ante! E' più di uno! E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su... Joe Asticman, epic, ok. Allora, voglio andare un attimo nel livello precedente. Ok, dobbiamo disegnare una chiave. Ok. E dobbiamo... Voglio fare quella cosa che ho fatto prima, perché... Che la devo fare? Allora, aspetta. Venite qua, azzuffatevi, per favore, azzuffatevi. No, no, ho detto azzuffatevi, no azzuffatemi, eh. Attacco di cucciolo di... Che bella chiave, mi dicono, eh. Allora, vieni qua, pinna moscia, vieni qua, veloce, dai. Vieni qua, porca zazzo, ti faccio malissimo. Vieni qua. Vieni qua. Dai, fammi una bella attacco di fuoco. Eh, sì, magari fai una bella attacco di fuoco, ma senza uccidermi, eh. Yes. Bravo, stupido drago. Allora, apriamo qua, facciamo uscire il robottino. Vai avanti. Vai avanti. Che cattiveria. Cioè, quindi voi mi state dicendo che ho appena ucciso un... Puzzle! Sì! Sì! Puzzle! Presso! Anche questo livello è completato. Oh, yes! Vaffanculo. Oh, yes! Allora, tecnicamente io adesso devo finire il livello. Aspetta, di qua che cosa faccio? Ricomincia. Seleziona il livello. Oh, facciamo ricomincia il livello. Perfetto. Ok, ragazzi, ho tagliato tutto per evitare di farvi cadere le palle. Allora, sono arrivato di nuovo qui. Eh, ok, abbiamo sbloccato la valle vulcanica. Oh, yes! Ok. Oh, quindi da ogni livello possiamo andare... Oh! Fico! Fichissimo! Allora, ragazzi, noi da ogni livello potremmo andare... Cioè, anche in più livelli. Cioè, dipende da dove lo finiamo. Bellissimo. Bellissimo. Già, lo amo questo gioco. Lo amo. Quindi, allora, noi dobbiamo andare a salvare il Ruggero. Quindi, per andare a salvare il Ruggero, dobbiamo... Facciamo questo livello. Sì! La pozza... La pozza vulcanica, qua. Oh, abbiamo la chiave e la nuvola. Fantastico. Ok, andiamo... Che succede se è venuto qua? Ahia, è lava. No. Non ci credo mai. Sto posso cadere? Ma ho ucciso! Polverizzato! Ma ho scafazzato! Vi avviso, da qui in poi preparatevi al peggio. Ah, ho soldi! 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 Voglio i soldi! Prendi i soldi, prendi i soldi! No. Volevo i soldi, volevo. Fallimento col... Voglio i soldi! Guardi qua non ce l'ho più, basta, vi odio. Ah, devo per forza andare di là. Eh sì, però, c'è la musica mi uccide i timpani, però, eh. Allora, devo scendere. Eh, sì, stavolta col culo che ti prendo qua e fiamme qua. I soldi. No, no. Sono sto qui. Sono sto! Ma porca, brucia, brucia tua sorella. Levati. Levati. Fate. Grazie. Ok. Allora, facciamo piovere. Ok. Mamma mia, come piove. Ahia! Fai male! Andiamo avanti. Andiamo avanti. Facciamo piovere. Ok. Andiamo piano. Ehi, sta attento, eh. Ahia, no, no. E dove vado? Dove devo andare? Oddio, mi sono bloccato. E ma dove vado? Non capisco. Aiuto! Aiuto! Non capisco. Aiuto! Aiuto! Mi sono bloccato! Aiuto! Tiorina! Non ho capito un cazzo. Oh, ora ho capito! Dove succede? Ok, ho capito. Ho capito. Diciamo che due ore dopo ho capito, eh. Grazie. Se ti faccio il nuvolone. Aiuto! I livelli diventano improponibili. Ok. Vabbè, se non mi ammazzo da solo, magari, eh. Perché è carina come roba, eh. Allora, facciamo uno. E due. No, giuro, giuro no, eh. Giuro no. Cadi. Guarda dove... Allora, non credevo diventasse così complicato salvare Ruggero, però, eh. Allora, tu. Dobbiamo fare così. Ok. E ora cadi. 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 No, devi cadere da questo lato, stupido. Ma stupido. Devi cadere da questo lato! Cadi. 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 Eh, cadi. Ma sei una stupida pietra, eh. Ok, caduta. Ok. Allora. Allora. Tu, tu. Non devi rompere le palle a nessuno, per favore. Grazie. Ho soldi. Guarda come devo morire. Guarda come devo... Oh, porca cazzozza. Questi soldi non li posso prendere. Oh, non lo so. Ma che succede se li... No, devo disegnare. Diciamo così che succede. Sì, sì, sì. Sparta... Noi erano tutti i soldi. Mi servono i soldi così. Vabbè. Comunque. Allora. Ehi! Tu non devi rompere le palle, per favore. Ok, grazie. Ok. Qua stava bene asciutto. Ok. Ti prego, non smettere di piovere. Per favore, non smettere di piovere. Oh, tranquillo. Dammi il colore. Sì! Allora. Presa il colore. No, aspetta. Se qualcosa si sveglia, io sono nella merda. Perciò, stati calmino. Ecco, perfetto. Ok. Allora, facciamo piovere qua. Yes! Aspetta, facciamo piovere un pochettino ovunque. Ok. Piovi qua. E piovi qua. Ok, perfetto. Fantastico. Allora. Oh, devo fare avvenire tre temporali contemporaneamente? Proviamo. Uno qua. Uno qua. Da qui facciamo una bella nuvoletta. Oh, le chiavi. Finalmente le chiavi. Allora, facciamo una bella chiave. Allora, deve essere una chiave molto lunga perché deve aprire tutte le serrature del mondo. Ecco, magari ci facciamo pure una. Ecco qua. Pure. Ok. Leve. Che va bene. Allora, questa chiave deve essere la chiave più forte del mondo. Visto? Visto? Guardate. Guardate. Ve l'ho detto io. Yes! Facciamo un'altra bella chiave. Ma non sembra per niente una chiave. Puzzle! Ok. Puzzle colore. Devo finire il livello. Non posso morire adesso, ragazzi. Sì, non posso morire adesso. Anche, avete sbloccato cacciatore di testo, ma sono fortissimo. Andiamo su. Cos'è sta roba? Allora, se piove il temporale la pioggia. Cos'è quella roba? Ho paura. Cos'è sta roba? Allora, non ho capito. Devo far piovere temporali? Non ho capito. Aspetta, devo far piovere? Ma devo fare il temporale? Non dall'inizio, non dall'inizio. Non dall'inizio, non dall'inizio, non dall'inizio, non dall'inizio. E ora? Adesso? E ora che devo fare? Non capisco. Adesso posso dare lo skateboard qua. Non ho capito. Che è sta roba? No, non ho capito. No, non ho capito. Vabbè, tu muori male, per favore, grazie. Tu pure, che tu sei sicuramente. Ecco, lo sapevo. Tu pure. Aia. Questo livello è introponibile. E sono al terzo. Quarto. Il livello E. Aiuto, help. Aiuto. Aspetta. Aia. Non morire, sai. Allora, non mi serve la chiave. No, no, no. Sono morto. Sono morto. No. Sì, sì. Hai sbloccato caverna del troll food. Sì. 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 Fanculo. Orca zozza. Quindi. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un pollicione in su qui sotto al video. Sono morto troppe volte. Troppe. 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 Quindi, se vi è piaciuto un pollicione in su, commentate, condividete, fatemi sapere come vi sta sembrando questa serie. Ruggero, arriverò. Piano piano, dammi il tempo. Arrivo. Quindi, vi voglio bene in un prossimo video. E ciao, ciao. Mamma mia, sono stacco. Levati, ti prendo a colpi di pisello, eh. Mamma mia, bastardo. Oh, si stanno azzuffando. Ah, io c'ho la chiave. Ho una pagina. Cos'è? Ho la pagina. No, i tentacoli. Oh, io ho la chiave.